Non volevo dirlo davanti a Trap, ma quello mi ha puntato la pistola in faccia. Ed era un pelo di culo dal premere il grilletto. Ma non l'ha fatto. Avrebbe potuto. E io sarei morto. Per cosa? Per impedire a degli stronzi di giocare a travestirsi? Flip, è intelligence. Io non rischio la mia vita per impedire a dei bifolchi di dare fuoco a un paio di bastoni. Il lavoro è così. Qual è il problema? Questo è il mio problema. Per te è una crociata, per me è un lavoro. Non è personale, non dovrebbe esserlo. Perché non l'hai preso a cuore? Perché dovrei? Perché sei ebreo, fratello. Il cosiddetto popolo eletto. Stai passando per un wasp. Un bianco anglosassone protestante. Solo cherry pie o dog, ragazzo bianco. Succede ai neri con la pelle chiara. Passano per bianchi. Tutto quell'odio che hai sentito dal clan non ti fa rodere il culo. Certo che sì. E perché ti comporti come se non ti riguardasse. Pivello, questi saranno pure affari miei. Sono affari nostri. Ora ti faccio avere la tua tessera di adesione. Così puoi andare al rogo della croce e scavare a fondo su quei tizi. Va bene, collega? Ok. Ok.